1. Apri un nuovo documento e scegli la norma Eurocodici. Puoi scegliere uno degli annessi nazionali predefiniti. Oppure usi la gestione annessi per visualizzare i contenuti dell'annesso selezionato. Creare un annesso personalizzato partendo da quello selezionato. 2. Esportare l'annesso selezionato. 3. Importare un annesso. Scegli l'annesso e la tipologia di struttura. 4. Definisci i dati per il calcolo. Definisci i dati per l'analisi sismica. Visualizzi gli spettri di risposta. Grazie. 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 Grazie.